C'è grande attesa a Vibo Valencia per l'ennesima edizione di Vibo in Danza di DVD VeipoCam sotto la direzione artistica ovviamente dell'ideatrice della manifestazione di questa due giorni straordinaria di danza ossia la professoressa Enrica Candela. Quali sono le differenze della edizione che il 22 e il 23 settembre vedremo qui a Vibo Valencia rispetto a tutte le passate edizioni? Ha una storia lunga questo festival concorso e parte da oltre dieci anni fa poi ha avuto delle pause di breve interruzioni e la storia è importante perché riconosciuta in tutta Italia sta su tutte le più importanti testate giornalistiche nazionali e video nazionali. Quello che noi stiamo tentando di fare quest'anno in estate è un percorso che poi dura tutto l'anno, parte con Vibo in Danza e si concentra nel periodo estivo in questi due giorni con presenze importantissime. Abbiamo già avuto l'encomio e la lode di nomi importanti come Anna Maria Prina e Paola Iorio che si sono complimentate di quanto stiamo realizzando sul territorio per le presenze di cui tra poco diremo. Grazie. Benissimo, quindi parlavamo non a caso di un cartellone e di un parterre bello corposo come del resto poi in tutte le edizioni di Vibo in Danza. Sì, diciamo è contenuto nei due giorni perché rilancia un discorso nazionale cioè si ripete su un percorso nazionale ma un percorso annuale che parte con una serie di eventi gli spettacoli del mese di dicembre, quest'anno abbiamo avuto il Balletto del Sud a Vibo Valenza addirittura in tre performance, quindi presenze importanti anche nel cinema di Vibo che ha avuto la possibilità di vedere spettacoli diversi. Sono presenti Cristina Grigorova, figlia d'arte, figlia di Margherita Traiano grande artista e insegnante di danza classica il padre spirituale della danza italiana che è il Giuseppe Fontano e la Salzano che si occupa di Martox è la rappresentante in Italia del Matt Martox.